Eccoci qui con un'altra puntata dedicata alla teoria dello Stato di Platone. Platone aveva teorizzato l'esistenza di uno Stato ideale basato sulla giustizia, uno Stato che però il filosofo sapeva non poter mai esistere in alcun luogo della Terra, diceva. Uno Stato ideale per l'appunto, un modello perfetto a cui ogni Stato reale dovrebbe tendere. Nella vita reale e negli Stati reali esistono infatti diverse forme di degenerazione che vediamo in questa video-lezione. Prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al mio canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche dei video che posto settimanalmente. Secondo Platone esistono quattro principali forme di degenerazione dello Stato e di conseguenza del singolo individuo. Le forme patologiche dello Stato sono la timocrazia, l'oligarchia, la democrazia e la tirannide. La timocrazia vede al comando i governanti che però si appropriano di tutto delle terre e delle cose dello Stato. Questa tipologia patologica è fondata sull'onore e l'uomo a cui corrisponde questo Stato è un uomo ambizioso che vuole comandare ed è diffidente nei confronti dei sapienti. La seconda forma è l'oligarchia, che è invece basata sul censo, dove comandano i ricchi e gli uomini che sono al potere sono interessati alle ricchezze e pertanto sono parsimoniosi e laboriosi. Un'altra forma patologica, secondo la teoria di Platone, è la democrazia, perché, secondo il filosofo, in questa forma ogni cittadino è libero di fare ciò che desidera, senza regole e con il rischio di abbandonarsi all'appagamento eccessivo di desideri. L'ultima forma patologica è la tirannide, che, spesso, è proprio la conseguenza della troppa libertà data al popolo con la democrazia. È la forma patologica più dura, perché il tiranno usa la forza e si circonda di persone cattive e spregevoli. Nella tirannide manca completamente la felicità, proprio perché la giustizia non c'è proprio più. Secondo Platone, invece, la forma ideale e perfetta, quella fisiologica e non patologica, è quella dello Stato ideale, che aveva teorizzato che non è per l'appunto possibile nella vita reale, ma è quel modello a cui tutti gli stati dovrebbero tendere. Ecco cosa ha imparato in questa video-lezione. Platone aveva teorizzato l'esistenza di uno Stato ideale, un modello perfetto a cui ogni Stato reale dovrebbe tendere. Secondo Platone esistono quattro principali forme di degenerazione dello Stato e, di conseguenza, del singolo individuo. Le forme patologiche dello Stato sono la timocrazia, che vede al comando i governanti ed è basata sull'onore, l'oligarchia, che è invece basata sul censo, dove comandano i ricchi, e la democrazia, dove ogni cittadino è libero di fare ciò che vuole. Infine c'è anche la tirannide, dove i cittadini sono privati di libertà e guidati da un tiranno. Ti ricordo, come sempre, di iscriverti al mio canale, se ancora non l'hai fatto, e di attivare la campanella per le notifiche. Condividi anche i video con altri utenti che sono interessati all'argomento. Ti aspetto nella prossima puntata. Grazie. Grazie.